Eccoci con Grammi di Storia, siamo all'esordio di questo nuovo format che è una sfida che vi propongo di fare assieme. E qual è la sfida? Quella di utilizzare le monete come strumento educativo, come materiale didattico per apprendere la storia, ma non solo la storia, avete visto il sottotitolo è Grammi di Storia, la storia raccontata dalle monete, ma non solo la storia, le monete sono effettivamente uno strumento transdisciplinare attraverso le monete, possiamo raccontare la storia, parlare di geografia, di arte, di matematica, di unità di misura, quindi di scienze, di materiali, di letteratura e di tantissime altre cose. C'è da dire che le monete sono anche un affascinante oggetto d'arte e noi a volte non ci rendiamo conto, le abbiamo in tasca, ci giochiamo, magari le abbiamo per le mani e non ci rendiamo conto che abbiamo un pezzo d'arte ma anche un piccolo pezzo di storia, una specie di, soprattutto se sono monete antiche che non circolano più, una specie di Stargate e in questi pochi grammi, perché grammi di storia, in questi pochi grammi di metallo si celano spesso una quantità di informazioni a volte anche inaspettate e anche atipiche e scopriremo che appunto le monete venivano utilizzate in passato proprio come strumento di comunicazione e di propaganda. Possiamo dire che le monete sono un po' quello che è oggi l'Instagram, possiamo dire che le monete sono l'Instagram dell'antichità, qualcuno all'epoca aveva detto che erano il televisore dell'antichità, ma questo lo scopriremo diciamo nel corso di questi video e mi sono chiesto come facciamo a partire, da che parte cominciare a parlare di monete in modo ovviamente anche leggero e divertente, perché le monete sono veramente anche una cosa molto divertente, soprattutto se uno incomincia a collezionarle, a scoprire diciamo come sono fatte e che cosa, le informazioni che nascondono. Quindi come cominciare, da che parte cominciare a parlare di monete? Allora mi son detto beh, la cosa migliore è cominciare con il termine, cioè la moneta, ma perché la chiamiamo moneta? Perché si chiama moneta? Perché usiamo questo termine? E in realtà c'è una moneta che ci racconta tutta questa storia e vi preannuncio che ha a che fare con con le oche, con i galli e con la storia di Roma e ovviamente c'è una moneta che nel frattempo vi faccio vedere, che è questa qui, che racconta in qualche maniera all'interno della sua iconografia, racconta un po' questa storia che stiamo per conoscere adesso. Vedete diciamo sulla parte sinistra c'è, che è il dritto della moneta, c'è l'immagine di una dea, poi vi spiegherò, scopriamo subito chi è, c'è una scritta, c'è scritto moneta, mentre sul rovescio ci sono degli attrezzi e un nome. Allora perché si chiama moneta? La storia è interessante, un mio vecchio conoscente parlando di questa cosa disse ma non so forse deriva dal pittore francese Monet, diciamo che arriva molto ma molto prima. In realtà la storia nasce nella Roma repubblicana e siamo all'incirca nel 396, se non ricordo male, avanti Cristo e la città è assediata dai galli di Brenno che hanno fatto, diciamo, l'hanno ridotta, l'hanno saccheggiata, l'hanno ridotta a ferro a fuoco e praticamente hanno preso tutto quello che c'era da prendere nella parte bassa, diciamo, della città. Sapete appunto la città è famosa per i sette colli e appunto tutta la parte bassa era stata saccheggiata e una parte dei cittadini si erano arroccati sul Campidoglio appunto a difesa della città della città ma in particolare anche dell'oro che era costudito all'interno appunto del Campidoglio. Nel punto più alto del colle del Campidoglio scorazzavano libere le oche, le famose oche del Campidoglio che praticamente erano sacre alla dea Giunone e infatti tra l'altro nonostante il periodo di magra e di saccheggi erano gli unici animali che ancora non erano stati mangiati diciamo dai romani affamati perché appunto erano delle oche che erano sacre alla dea Giunone. Ovviamente i galli di Brenno cercarono più volte di attaccare il colle del Campidoglio e una notte è successa che nel tentativo dei galli di entrare nel Campidoglio una persona che poi credo fosse un console, un ex console, forse un ex console, un certo Marco Maglio. Mentre questi galli cercavano di arrampicarsi senza farsi sentire, venne svegliato dallo starnazzare delle oche diciamo di questi pennuti sagri che pare si erano allarmate appunto dagli assedianti che stavano per arrivare. E quindi Maglio si svegliò e fece in tempo a dare allarme e a far... e a respet... quindi poi i romani che erano lì riuscirono a respingere i galli. La cosa divertente se ci pensate è che appunto le oche che respingono i galli in qualche modo. Quindi per i romani allora che succede? Che per i romani diciamo questa... da quel momento in poi diciamo questa... le oche si crea questa storia, questa leggenda che le oche siano state appunto destate dalla dea, dalla dea Giunone proprio per salvare la città, quindi facendole starnazzare. E da quel momento in poi quindi la dea Giunone acquisì un appellativo che è appunto Giunone o Giuno come veniva anche chiamata, Giunone moneta, cioè l'appellativo moneta che stava a significare l'ammonitrice, quella che ammonisce per appunto far svegliare i romani. Quindi da quel momento in poi, più avanti, viene creato sul Campidoglio, sul punto più alto, un tempio dedicato appunto a Giuno moneta o a Giunone moneta. Più tardi, credo 50 anni dopo, i romani decisero di mettere proprio lì a fianco al tempio di costruire la zecca, cioè il luogo che come sapete è quello dove si producono le monete. Perché proprio lì? Perché, diciamo, era ritenuto il luogo più sicuro, diciamo, della città. E quindi, diciamo, la zecca venne costruita attaccata al tempio di Giunone moneta. Ora, pare che il popolo iniziò a trasferire questo appellativo anche al luogo dove venivano create le monete. So, tipo, immaginate una frase, beato te che lavori alla moneta. Oppure, mamma, che cos'è che fanno alla moneta? Fanno le monete. Quindi, diciamo, in qualche modo, quello che prima, fino a quel momento, era chiamato in latino numus, via via incomincia a prendere questo nome di moneta. E ritorniamo quindi alla moneta. questo che vedete è un denario, che è un'importante moneta romana, sia che nasce in epoca repubblicana e andrà avanti fino alla fine dell'impero romano. È un denario, quindi, d'argento. E la cosa interessante, appunto, è la storia che racconta. Quindi, sul dritto vedete l'immagine della dea Giunone, con l'appellativo moneta, scritto, diciamo, nel cerchio, nella parte circolare, mentre sulla destra vediamo gli strumenti della zecca. Vediamo, appunto, l'incudine, delle pinze, un punzone, è un martello, con la scritta Carisius, che credo sia il magistrato monetale che si occupò, appunto, della creazione della moneta. Questo è un denario intorno al 46 avanti Cristo. Quindi, guardando questa moneta, noi possiamo capire la storia dell'etimologia del nome, da cui deriva il nome moneta. Quindi, da oggi sappiamo perché le monete si chiamano monete. Per oggi è tutto. Spero che sarete con me anche in questo percorso e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.